Ciao a tutti, in questa guida vi spiegherò come collegare un iPod Touch ad un cellulare qualsiasi per navigare ovunque su internet. Allora, per prima cosa prendiamo il cellulare e andiamo ad attivare il Bluetooth. Quindi andiamo su menu, attiviamo il Bluetooth, ok, adesso prendiamo l'Eco Touch, selezioniamo l'app iBluvay, connettiamoci, adesso prendiamo questo pulsante Mowar, saranno disponibili tutti i device, gli ho vissuto, su ricerca, una volta che è finita la ricerca, selezioniamo il nostro device e adesso ci viene un alert dicendoci che, essendo una versione demo, tutte le opzioni saranno scartate una volta che sarà chiusa l'applicazione, e vabbè. Adesso dobbiamo configurare i parametri di accesso del nostro operatore, nel mio caso ho Team, il nostro operatore, selezioniamo il nostro device, e come per magia chiederà il codice protezione, mettiamo 1, 2, 3, 4, ok, iniziamo la Pascade, 1, 2, 3, 4, ok, e una volta che sarà venuta la connessione, ci dirà congratulation, eccetera, praticamente siamo connessi al telefono, ok, just miss, super probable, come su Safari, come vedete sta caricando Google, cerchiamo la parola, ad esempio, ciao, cerchiamo, ed ecco qua, andiamo su, vedete, e come vedete si connette anche qui, bene.